Ciao a tutti, io sono INDG e sono un artista a cui piace molto suonare in strada. Uso non a caso questa accezione della mia descrizione perché non sono un vero musicista da strada, ma la strada è la situazione dove chi mi dà attenzione lo vuole veramente fare ed è la cosa più bella che si possa ricevere, che è l'attenzione delle persone data spontaneamente. È un dono che mi fanno e questo mi rende felice e quindi mi trovate a Milano, a Varese o dove c'è la possibilità di poter suonare. Il mio sito è www.ndg.org e lì potete ascoltare alcune canzoni, sono sul profilo Facebook. Andy G ha scritto Andy con la Y, finale è Genova Empoli Empoli. Una precisazione doverosa, mettete un sacco di mi piace e andate a ascoltare gratis le mie canzoni. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.